Io credo che lei sia stata un po', lei abbia portato avanti un personaggio, un ruolo sul set, ha torto a ragione ai posteri l'Ardua Centeno e mi ha detto che per ottenere un risultato devi menà, però lei lo faceva dentro un personaggio. Il povero Cannavale andò via con la Croce Rossa dal set, dal fatto che lui non aveva avvertito che c'era lo spettacolo la sera e lei come l'ha trattato? Quella roba lì, sempre affettuosamente amici ci vogliamo bene, ma tanto è andato via con la Croce Rossa, sospetto infarto, capito? Per dire, sui set io vedevo il capomacchinista che ne la faceva questa pressa a Lina, è una che Pia proprio prende le cose e le porta avanti con forza, Lina ce se nasce.